Cazzo, dieci anni in prigione ha fatto? Svegliati, Farah! Fatti vedere, vieni! Da quanto sei in isolamento? Dieci giorni. Sembri malata? Niente cibo o acqua. Farah. Tranquillo, posso sopportare. Perché ci hanno messi insieme in questo modo? Ti usano per arrivare a me. Prima dovranno uccidermi. No, Adir. Tu mi servi vivo. Guarda. Ho preso una chiave. Che apre? Lo scopriremo. Ecco, tieni. Prendi. Presa. Ok, nascondila. Arriva il generale Varkov. Ha saputo dei messaggi. Sa che tu sei Karim. Vedremo. Guarda, riunione di famiglia. Che carine. Se vuoi che la smetta, dimmi la verità. Vedici per una sclata. Fatelo parlare. Questa è tutta mia. Indietro. Veri. Fa Luigi, grazie dei dodici. Tu e tuo fratello. Questa è non rivederlo più. Sta zitta e vai nell'angolo. Basta, questo vuoi la sberla. Non guardarmi, Farah. Se hai in mente di fuggire, presto cambierai idea. Guardami ora. Guardami ora. E che armo. Ha un caldo infernale in questo paese di merda. Devi avere sete. Grazie, mi hai ricordato che dovevo bere. Ne vuoi? No. Non la voglio. Finita. Ti faccio avere dell'acqua. Drei arrivi. Seguimi. Vieni a bere, Farah. Dentro. La sedia, Farah. Mamma mia. Non puoi scappare. Farah, non c'è nessuno che verrà a salvarti. Ti ho in pugno. Ma posso renderti la vita molto più semplice. Ora, parlami del comandante Karim e di quei messaggi. Vaffanculo. Vada come parli, Farah. Ho avuto pazienza con te, ora basta. non svenire. Non svenire e rivedrai tu fratello un'ultima volta. Ti darà da bere. Prova a respirare. Puoi passerà. Oh, bravo. Dove io la testa, Farah. Respira! Bene! Sei proprio bravo! Per ora può bastare. Stai forte, para. Continua così, arrivi a dire. Ora dimmi, chi è Karim? Sei testato. Chi cazzo è Karim? Spagherai caro il tuo silenzio. Dove ci? Ho trovato una delle tue sorelle. Non ho parlato, para. Tranquilla, asate. Zitta! La sua vita è nelle tue mani, para. Resisti, lei vive. Vieni, lei muore. Isceras! Questa volta sarà più difficile. Dall'altra parte. Non di là, para! Dall'altro lato, para. Se non poi dovrai riprendersi. Voglio essere chiaro. Qui comando io. Tu poteri salvare una vita. Ora ti mostro come ne prendo una. No, è indifera. No, fermo! No! Peverichard. Che mi hai fatto fare? Eh? Ma stanno torturando, raga. Non prendo quella merda lì. Sono i vermi. Perché mi hai preso? Pensi di potermi battere? Basta, giochetti! Tuo fratello mi ha rubato una chiave. Dov'è? Hai perso una chiave. Ne manca una, ma ne abbiamo altre. Che cosa apre? Ti credi tanto sveglia? Karim. Sì, lo so. L'ho sempre saputo. Ora, dov'è la chiave che tuo fratello mi ha rubato? Quale chiave? Quella che nascondi! Questo paese è una maledetta tana di terroristi! Forterò ordine e rigore in questa terra e proteggerò la mia patria dai ladri terroristi! Io proteggerò la Russia! Zitto! E' quello che si può fare? Davi! Oggi si può fare! E' bella Tucchiaio Una bella lama Guarda Che ci devo fare Mo' con sta roba Vai Devo andare Su Sì Sì Stanno appena torturati Sei super stonks Tu eh Vai usa Bene Scassi Mira con il faffo Quasi Meno male La vostra fara Sta arrivando E Ah era quella di mio fratello Questa Sì Ma salire dove? Ma salire dove? Mi diceva trasporta Non ho capito Qua Ok 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 Mi so che adesso Dovino Qua Zio Belli Dopo leone Io prendo la rompipalle Io prendo la rompipalle Ok Ok Mi devo stare attento Questa Questa Niente rollo! Niente rollo! Dono continuare! Naturalmente il lavoro ha terminato! Come una ragazza, vedrai me! Dato! Se sei qui sappi che alc History on Nusita! Non ti lascerò Tanto vale che ti arrendi Ok Io senza problemi eh Ah qua potevo girarlo È stato così semplice? No È impossibile Arrivo sorelle Siamo qui Sorelle sei scappata Lo sapevo Grazie sorelle Vai a scita Ma dove? Ma che sommato Eccola la chiave Grazie Grande Ammazzalo Ritornano le guardie Faremo un'imboscata Come? Puntiamo e spariamo per uccidere Come abbiamo detto Assurde! Li vedo! Li vedo! C'è fatto sorelle Barco fa chiuso gli altri Nelio Stringimi Raggiungiamoli Prima che muoiano tutti Sì, sì, sì Uccidiamo tutti Siete tutte coraggiose Anche tu sorella L'esercito per le donne Sì, sì Eh? E poi c'è questo dropshot Guarda mo Boh Spadotraffete Oh, un cecchino Non c'è che non devo Non posso Veicolo russo Puntatelo Ma cazzo è volata una tipa Ups Ma cazzo è molto male Ma cazzo qua sono in un botto Basta Fatti cazzo Siete Devo avanzare Devo avanzare Mi sa Sulle scale Li vedo L'ancio granate E' matto Merda arrivano pure dall'amo No No, le truppe di Farah Ragazzi sono Il calif- No, il calif- Cazzo sto dicendo Sono i curvi Le truppe invece di Del lupo Sono Il califato L'isis Oh, e mori Ancora vivo Cazzo l'ho preso nella giugolare Adesso è morto Perché mi conviene passare Qua Forse no Qua siamo più riparati Per il cecco Vai sorelle Oh, non è il cazzo Gli ho sparato Ah Ah Saglio in movimento Attenzione al cecchino Cazzo No, merda Ah, il cecchino mi sa E' allo scoperto Fornitemi copertura Come granate Da una parte c'avevo la granata Raga, dall'altra c'avevo Il cecchino Occhio zia Nadia Vai che stanno entrando C'è un cazzo C'è un cazzo C'è un cazzo Grandioso Ah, ci ha cagato Cazzo Strons Arco 2 L'amazoschio Eccolo Price Hai capito Price Sì, sì, infatti Infatti ci metto un botto A caricarle a me Raga Pazza poracci Vai C'è un cazzo Io apro gli spruzzatori Non pensavo Non posso Chiusa Dammi Vai Adir Adir Tirate Vai, vai Adir Sono venuti Sì È fatta Ce l'hai fatta Riprendi piatto Raduniamo prigionieri a scorte Ce ne andiamo Andate a nord Evitate l'autostrada Bravo 6 A Cobalt 4 Confermate Ma saprai Che figore Presevuto Restate lì Sbrigatevi Sarà anche Barkov Per vendicare i suoi Va, aspettaci Sifar Ve la farà pagare Lo sapete Ve la faremo pagare noi Saremo pronti Abbiamo sgomberato La strada a nord Accampatevi lì È sicuro Grazie La rivoluzione inizia adesso, sorella La guerra inizia adesso Anche la guerra ha dei valori Ricordatevelo Bravo 6 Due minuti a decollo Vent'anni di guerra civile Non c'è niente di civile A dire ben addestrato Ha cerchiato Rapito Non importa Ha portato il gas in Russia Sì, ma con l'aiuto di Al-Katala Lui ha i contatti e le truppe Tu lo piasimeresti, eh? Non ufficialmente, no Ma questo è più grande di Avira adesso Ci sono due opzioni O avvisiamo Mosca O la madre russa assaggerà la sua medicina No, morirebbero molti innocenti Causa di una risorsa occidentale Ok, ma adesso veniamo al sodo Suggerimenti? Un viaggio d'affari Non autorizzato Fantasma La squadra? Alcuni vecchi amici E il sergente? È pronto Vi farò entrare Dopo sarete da soli Soltanto armi del posto Lascia fare a me Grazie a tutti Grazie a tutti